Sicuramente siamo in tante appassionate di maschere viso, quella che vi mostrerò oggi è perfetta per iniziare ad apprezzare la tecnologia overnight. Anche a me piace molto la coccola spot derivante dal concedersi una maschera viso da risciacquare dopo alcuni minuti di posa. Amo il rituale di pausa relax che trasmette alla mia mente, esattamente come può farlo una tisana per esempio. Grazie a World of Beauty ho iniziato ad utilizzare con costanza anche maschere viso che si possono tenere tutta la notte per un effetto evidente appena sveglia e adesso ve ne parlo nel dettaglio. L'esposizione al sole può mettere a rischio l'uniformità della carnagione tanto curata e, con l'età e altri fattori predisponenti, può comportare quelle macchie che poi ci affanneremo a coprire col fondotinta. Quante volte capita che, più delle rughe, si hanno le ipercromie a svelare l'età? Utilizzare la protezione 50 è consigliato, ma non basta, altrimenti io stessa sarai priva di macchiette indesiderate. La maschera Supreme Beauty è particolarmente indicata per contrastare la formazione di ipercromie, in questa prova prodotto quindi. Unito la mia lotta alle immeritate discromie con la mia inguaribile passione per le maschere viso, quella di cui vi parlerò è una maschera che contribuisce anche a rigenerare la pelle, con azione antiossidante ed illuminante. Il packaging è veramente curato, col tappo dorato che ricorda la preziosità del prodotto e il contenitore blu che riporta ad immaginare relax e distensione. Svitato il tappo, troviamo un dischetto in plastica ed un altro protettivo, in carta e alluminio, che va rimosso al primo utilizzo. Ed aprendola, percepiremo un profumo lieve e deliziosamente fresco. Dopo aver effettuato i nostri rituali serali di pulizia della pelle, preleviamo la quantità adeguata di prodotto e la applichiamo. Fino ad assorbimento completo, possiamo tenerla in posa 10 minuti e poi risciacquarla. Se invece preferiamo sfruttare appieno i benefici della tecnologia overnight, possiamo tenerla tutta la notte e lasciarla agire. In questo modo potrà prevenire e contrastare le macchie e migliorare la microcircolazione della pelle. La sua gradevolezza è dovuta alla consistenza in gel che la rende fresca e scorrevole. Formulazione che è stata ritenuta ideale per la lotta alle macchie solari e per migliorare l'ossigenazione cellulare, perseguendo un aspetto della pelle più bello. I principi attivi. Vitamina C fresca, proprietà antiossidanti, schiarenti ed illuminanti miele naturale, proprietà antiossidante per la ricchezza di. Polifenoli e flavonoidi estratto di licopene, naturalmente ricco di antiossidanti ecco cosa mi è piaciuto. La gradevolezza dovuta alla consistenza e al profumo la possibilità del doppio uso come maschera risciacquo e come crema notturna. È adatta a pelle matura, tendente ad iscromie. È perfetta per chi ama cosmetici che mantengono le promesse. In conclusione, ho potuto notare in oltre un mese di utilizzo un aspetto cromaticamente migliore della mia pelle e sono rimasta soddisfatta della prova. In questo periodo ho dovuto affrontare prove personali molto impegnative che hanno ridotto le mie difese immunitarie esponendomi ad alcune problematiche di salute. Una maschera ricca di vitamina C e di alti antiossidanti è indubbiamente stata l'unica tangibile salvezza per l'aspetto della mia pelle. Inci, acqua, glycerin, polygliceril 4 caprate, amamelis virginiana distillate, mel, sodium hydroxide, soleinamolico persicum extract, prunus persica frutti extract, prunus armoniaca frutti extract, citra sorrentium dulcis piloil, citra sorrentium amara oil, mentol, deisodium edittia, tetrasodium edittia, sodium benzoate, potesium sorbano, carbomerfe oxyanol, C19140, limonin, linalul, citral. Quanto costa e dove si trova? È acquistabile dei rivenditori autorizzati dal brand online su Wub Cosmetics. Coma 36 euro. Potrebbe interessarti anche, maschere viso e un tessuto, cosa sono, come funzionano, quali usare le migliori maschere viso peel off. 10 maschere viso fai da te per illuminare la pelle spenta 36,009 euro e 50 centesimi valutazione complessiva 9,510 pro. La gredevolezza dovuta alla consistenza e al profumo la possibilità del doppio uso come maschera risciacquo e come crema notturna. Nessuna in particolare.